Davide Volpi, questa è una semifinale che state giocando molto bene contro One Eagles? Sì, ci stiamo provando anche perché a fine campionato siamo tutti più o meno in forma che ci stiamo provando a un certo livello. Avete fatto un miglioramento eccezionale? Sì, abbiamo trovato gente più o meno competente e buona giocare. Rimani con noi. Senti, il tuo gruppo comunque ha avuto tante vicissitudini, alti e bassi, più bassi che alti all'inizio. Siamo partiti molto male, siamo partiti anche perché siamo stati a fare questo campionato un po' in preparazione su tutti i livelli, sia di forma, che di giocatori, che di tutto che è. Per il tempo ci siamo abbiamo sotto gente che vuole giocare, che vuole giocare, che siamo contenti. Questa settimana proveremo ad iniziare un po' meglio. Sicuramente, sicuramente la squadra è cresciuta, quindi sicuramente sarete un passo avanti. Se possiamo essere a questa squadra che deve restare, possiamo divertire il prossimo anno. Senti, questa è una semifinale, cronostico? Per noi siamo 5-4, sai a 5 ti direi, però bisogna vedere, per noi sai a 5, però bisogna vedere che stiamo giocando per farlo. Vabbè, comunque in bocca al lupo, bravo, l'importante poi è quello, grazie Davide. Niente.